Non sapete perché sto cane piace rubare i posti? Era? Ebbene sì, dopo tanti sforzi, finalmente la scuola è finita. Per tradizione noi in genere andiamo a un parco a fare l'ultimo giorno. Peccato che per i simpatici su un brutto tempo ci siamo ritrovati a fare a scuola a guardare film. Ma questo è solo un dettaglio. Io più che altro io volevo fare questo drive-log, volevo farlo a quel parco, e quindi lo faccio adesso, visto che per mantenere un po' di verde ci sono di farlo in giardino. Vi asso il mio giardino? Bene, tornando a noi. Cosa volevo dire? Allora, prima di tutto mi scuso se ci ho messo un sacco a fare l'ultimo video, però ho avuto un sacco di impegni, un sacco di studio, un sacco di cose, e in sostanza ho fatto anche un sacco di sperimentazioni, ho provato un po' di cose nuove, sto imparando a usare After Effects, credi me lo sto imparando a usare After Effects. Per questo ci ho messo parecchie a farle. Adesso che inizia il periodo stifo spero di fare un po' più di video, un po' più spesso, un po' più così. Ecco, visto che ci siamo, visto che parliamo di effetti, ecco, rispondo qua, visto che me lo chiedono tutti. Oh mio Dio, come cazzo hai fatto a fare un video in cui parli con te stesso? Lo voglio anch'io. Così ho fatto. Per spiegarlo in maniera semplice, visto che se uso linguaggio tecnico non mi capisce nessuno, vi mostrerò questo. Allora, questo è il video in cui sono seduto da una parte del tavolo, questo è il video in cui sono seduto dall'altra parte del tavolo. Ora, ci metto dietro questo, così. Vedete? Non si vede l'altro, giusto? Benissimo. Tadà! Sono da entrambe le parti del tavolo. Ora, perché questo, se possibile, non deve cambiare niente nello sfondo. Stessa illuminazione, stessa oggetti, metti che c'è, ad esempio nel mio caso c'era il tavolo, se spostavo il telecomando si notava, perché c'era il telecomando dietro a metà, stesso telecomando, e non spostare assolutamente la videocamera, se non si roviene la scena e ho pagato le spese di questo esperimento e di spostare la telecomando. Bene. Ora, io, tra nove giorni, nove giorni, perché una settimana e due giorni sono nove giorni, partirò. Vado a Matera. Sì, vado a Matera in Basilicata. Di conseguenza, quindi, se c'è qualche fan dravenico che ci c'era per la Basilicata, sono lì. Da lunedì... No, da martedì 22 fino a... il venerdì. Sarò lì. E, a breve, comincerò una collaborazione, video, con il mio caro amico GQ93. Lui ha già accennato a questa cosa, nel videolog, qui c'è il link, qui, qui davanti c'è il link, e invece qua c'è il link al suo canale in generale, se volete andare a vederlo. Iniziamo a avere questa videocollaborazione, che penso monterò io poi qui, spero, almeno mi piacerebbe montarla a me, montarla a me, sì, montarla a me. E, boh, questa roba qui, ve l'ho spiegata, qui sotto c'ho anche, ah sì, qui sotto c'ho anche il cane, che voi avete, mezzi di voi hanno scambiato per un gatto nero, che però adesso è dietro la videocamera, non vorrei che me la facesse cadere, Hagrid vieni qua, vieni qua, vieni qua, stai lì. Eeeh, beh, 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 insomma, quel grande progetto che ho operato fra l'altro, non si fa, non si fa perdere, una storia e l'altra, sono umiliato a suonare il piano, ma non me ne frega niente, quindi smetterò di parlare, perché diciamo che non so. Non si mangia, non si mangia questo. Non si mangia questo.